Oggi ho partecipato a questa formazione che è stata particolarmente interessante. Mi ha consentito di venire a contatto con alcune realtà che magari non neanche immaginavo, quindi come riconoscere gli stereotipi ed abbatterli. Questo per me è una cosa completamente nuova, l'approccio a questa realtà. E' un corso che mi tento di consigliare a tutte le figure professionali e a tutte le realtà. Proprio perché le moleste nell'ambito testuale sono sicuramente una realtà, una criticità che deve essere combattuta e dal basso può essere sicuramente un primo passo per dare la mossa finale a questa situazione.